Buongiorno, oggi è il 21 gennaio 2024 e la lettura che vado a fare è intitolata L'ultima recita in un teatro che brucia, articolo che ho scritto il 23 agosto del 2018. È intitolata L'ultima recita in un teatro che brucia. Ho letto la drammatica frase del titolo Su un muro della città di Volos, incantevole porto della Tessaglia in Grecia. Erano i giorni immediatamente precedenti il referendum consultivo del luglio 2015 con cui i greci dissero no al programma di austerità della Merkel e della Troichel. Era in effetti una recita quel referendum, soltanto l'ultima recita in un teatro che stava già bruciando da anni, il teatro greco. Ed infatti, nonostante il no che emerse dalle votazioni, il no al mes e alla Troica, nonostante quel no il popolo fu asservito a quel programma mortifero e liberticida. Castellorizzo è un'isola del Dodecanneso, la più orientale delle isole greche, quelle che stanno di fronte alla Turchia. A Castellorizzo è stato girato un magnifico film mediterraneo con Diego Abbatantuono. È l'ultima roccaforte della civiltà greca sulla via dell'Oriente. Non ci sono mai arrivato, anche se ho attraversato la Grecia e l'Egeo, in dieci lunghi viaggi non convenzionali. E non sono sbarcato neppure a Itaca, anche se sono arrivato a poche centinaia di metri dalle sue sponde. Non proprio come Ulisse, dunque, ma quasi. Nota odierna del lettore. Poi a Itaca ci andai nel 2021, chiusa la parentesi del lettore. La crisi finanziaria della Grecia fu annunciata a Castellorizzo per la prima volta nell'aprile del 2010 dal primo ministro di allora, Papa Andreu. In questi giorni, quando scrissi, cioè, questo articolo, in questi giorni, agosto 2018, Tsipras, da Itaca, ha annunciato l'uscita della Grecia dal programma di salvataggio della Troica, ossia dalla tutela diretta dei suoi creditori. Il primo ministro greco afferma che è terminata con questo passaggio simbolico da Castellorizzo ad Itaca, dei suoi primi ministri, prima Papa Andreu, poi Tsipras, è terminata l'odissea moderna, lui dice, del paese ellenico. L'immagine è suggestiva e il richiamo alla mitologia, l'antica mitologia, di grande effetto. Come Ulisse è finalmente tornato ad Itaca dopo dieci anni di peripezie, così Tsipras avrebbe riportato il paese sulla via dell'indipendenza e del recupero economico dopo otto anni di sacrifici avrebbe. Si è tentati di entrare nel mondo della favola e di lasciarsi cullare da questa oleografia costruita, costruita ad arte. Si è tentati di inseguire il sogno sulle ali del mito e di gioire per il destino propizio che gli dèi avrebbero finalmente riservato alla terra che ha generato la nostra civiltà e che ha inventato la democrazia. Purtroppo la realtà è drammaticamente diversa e assume i contorni di una tragedia, una tragedia greca appunto, che quest'ultima scenografia dell'approdo a Itaca del suo primo ministro Tsipras non riesce a mascherare. O forse Tsipras con la sua rappresentazione odierna vuole riecheggiare la Nabasi quando il greco Senofonte portò il suo esercito in salvo attraverso le montagne fino al mare dopo un viaggio durissimo di guerra contro i popoli orientali. Arrivarono a un monte di nome Teche. Quando i primi fra i greci raggiunsero la cima e da lì videro il mare, esplosero in grida immense. Thalassa, Thalassa, mare, mare. Queste le parole di Senofonte. Il mare di Tsipras, però, è solo un'apparente libertà del popolo greco di essere padrone del suo destino. Dopo otto anni di austerità cattiva, la Grecia resta un paese devastato, spolpato, corroso, umiliato. Più di metà dei suoi giovani non hanno un lavoro e fra gli adulti uno su cinque è disoccupato. La capacità di produrre ricchezza è diminuita di un quarto. È così il reddito delle famiglie. Gli investimenti produttivi si sono più che dimezzati. Dimezzati gli investimenti. Le pensioni sono state tagliate 13 volte. Un terzo della popolazione è a rischio povertà. Mezzo milione di giovani greci sono emigrati. Le aziende produttive dello Stato, porti, aeroporti, ferrovie, immobili, aziende del gas e dell'acqua, sono state vendute a compratori esteri, soprattutto tedeschi. Ma a cosa sarebbe dovuto servire quest'immane sacrificio di un intero popolo? A risanare le finanze del paese, cioè a riportare sotto controllo il debito greco sovrano. In realtà il debito pubblico dal 2008 al 2016 è aumentato dal 109 al 180%, una cosa spropositata che dunque continuerà a pesare sulle spalle dei greci, a pesare sempre di più perché la nazione oggi è molto più povera e più incapace di produrre ricchezza. Nota del lettore. Adesso, in questo momento, diciamo nel gennaio del 2024, il rapporto tra il debito e il PIL si attesta, mi sembra, intorno al 170%, quindi non è cambiato assolutamente nulla. E questo, appunto, nonostante otto anni di intervento del MES. Signori, questo è il MES. I greci sono allora condannati ad una perpetua austerità, come è stabilito nelle condizioni che oggi hanno dovuto accettare per affrancarsi dalla presenza diretta della Troica, che in realtà rimane occhiuta a sorvegliare dietro le quinte. Del resto tutti sanno che il recupero effettivo del debito greco è un'operazione impossibile e allora è meglio costruire attraverso una parziale ristrutturazione del debito una sceneggiatura che lo faccia almeno sembrare come possibile, seppure a lungo termine, ed intonare canti di vittoria e celebrare la saggezza dei turboliberisti di Bruxelles. No, Tsipras non è arrivato né all'Itaca di Ulisse né al mare di Senofonte. Il viaggio difficile del suo popolo continua e i vincoli a cui il paese resta sottoposto nonostante il recente alleggerimento del debito ipotecano il futuro di due generazioni. Atene deve realizzare avanzi primari di bilancio fino al 2060, cioè per i prossimi 42 anni. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.